questa è bella e bella ammazza quanto è bella questa è impegnativa e impegnativa ammazza quanto è impegnativa però secondo me il saldo è attivo il saldo Roma il saldo Roma Romano da Roma della capitale il saldo Roma Romano non c'è niente è profitto sono arrivato maciullato questa settimana sono arrivato maciullato bello rionfo della natura sull'uomo un povero uomo stupenda natura stupenda con il cielo con le metalliche che ci rivolte a casa non con le ostanute ma con la schiena bella carica di stanchezza e me lo ascolto il faldo un'altra volta se soltanto è stanco lavorano in tanti e se ho lavorato in tanti almeno con il fuoco umano probabilmente ho provato abbastanza almeno abbastanza e allora secondo te sto male per me la sala è tanta staglienza è arrivato il caldo si sente anche quello e non me lo sarebbe esser bene come usare perché c'è un'ora ma se la fatta si sente anche e allora si sente anche allora il caldo e si sente anche quando sei bello fresco di tutta la presenza secondo te sto male questa perina puoi dire che ti vado a prelevare mi sa che ti faccio un po' schiampare e la vita si sente anche se sente anche per come usare e per la giusta per la giusta per la giusta per la giusta